È una valutazione che abbiamo offerto a tutti gli iscritti di valutare anche questa ulteriore forma di finanziamento basata sulla libera scelta e consapevole dei singoli. Se verrà approvata bene avremo questa ulteriore forma di finanziamento, se non verrà approvata bene lo stesso, continueremo come abbiamo sempre fatto con grande orgoglio. Ma il principio del Movimento 5 Stelle è che gli iscritti si pronunciano su tutti i passaggi più significativi della vita associativa quindi non dobbiamo spaventarci affatto del confronto e del fatto che possano votare.